cosa fai Matte? mando un messaggio a Marco perchè? un indicatore satellitare perchè? perchè è sempre in orario ah ok ok ma da perchè dove 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 cosa stiamo facendo? stiamo andando a fare le prove no stiamo già a fare le prove stiamo andando stiamo a correggio a fare le prove hai visto il video? 200 volte ciao e ti è piaciuto? molto si? convincente e che mi è piaciuto? quindi ragazzi se anche a voi è piaciuto e ci vuole la condivisione selvaggia non c'è niente da fare ci vuole quella perchè? i numeri sono importanti davvero e quindi se volete che veniamo a suonare da voi tutte le volte che ce lo chiedete i numeri devono salire mi raccomando e grazie anche per gli auguri di compleanno e grazie anche a quel matto che ha che ha messo un lenzuolo su un cartello a popiglio l'ho visto grazie ciao